no no non mi piace secondo me questo è il freno a mano si stacca da sola piacendo leggero che non dà nemmeno il colpo allora freno metti la prima ah ma non vai in automatico? adesso è automatica c'è scritto uno? si sotto è scritto auto ok perfetto c'è dei grammi e andiamo a sinistra signori ciao per fare via ma sinistra e andiamo a sinistra adesso è tempo di andare sulla seconda rotonda poi come sentiamo ora torniamo il goadribolo ecco vedi che sono le macchine che è pazzaro con tutte l'albero Si, 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 poi vogliamo di là o a testa? Allora, qua, vai piano? Si, qua, l'interno. Eschezza! Si, qua, l'interno. Ok, adesso prima o to c'è da inocentro il po' Dynamo Svega, scelta il centro del centro del macro, perché c'è già non ce l'euro. Grazie a tutti. Grazie. 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 C'è un Avezzano che c'è la vicino d'Area, proprio questo è un po' sbagliato E qualche volta che capita che sto in città, lui c'è uno spesso in città con la macchina E' un problema impressionante Adesso non so se ha questo o il modello primo, ma è uno quasi simile Eh, non lo so Però se uno è tuo, andiamo di qua a destra E tu dopo qualche giorno la rifiardo, la faccio così Come partiti? Niente, niente Mi sono un po' scimentato Non ce l'hai il folle? Solamente quando parte, parte in folle No, se tu vuoi, basta aprire la porta allora vai in... Cosa vado a mettere il folle? Chi lo lanci così è fermo E' bella, è bella Il freno prende la zona Il freno devi schiacciare il freno e girare la chiave Perfetto Se giri la chiave, esatto, lei va in parcheggio Tizia sali Com'è andata? Mi sono un po' sc... Perché per frenare bisogna spegnere Adesso sono legati Adesso sono legati Adesso sono legati, vai Perfetto 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 Perfetto